Ciò che mi ha fatto innamorare del ciclismo è sicuramente la libertà in sella quando sei sul proprio mezzo. Al murro della fatica l'ho gestito in modo del tutto naturale, comunque quando è un grande sogno ti alzi ogni mattina con la voglia di fare, la voglia di dare di più e la voglia di faticare. La precisione nell'allenamento è fondamentale. Quando mi metto sulla skill bike cerco di riportare il mondo esterno all'interno della casa. Rispettare i numeri, rispettare i limiti è una cosa fondamentale per superare me stessa. Forse il ricordo più bello è quello della medaglia d'oro di Elia Viviani. Quando vinse l'Omium a Rio è stata un'emozione grande anche per me. Mi aspetto qualcosa di meraviglioso, qualcosa di grande. Immaginarlo è difficile, bisognerebbe giochi per l'oro. Mi chiamo Letizia Paternoster e il mio obiettivo è raggiungere il mio sogno olimpico. Qual è il tuo obiettivo? Champions Train with Technogym.